Resta ancora ricoverato in prognosi riservata il giovane accoltellato venerdì pomeriggio all'interno del parco del Campaccio a Sansepolcro. È stato sottoposto ad un delicato intervento alla milza nel reperto di chirurgia dell'ospedale San Donato di Arezzo, non sarebbe in pericolo di vita. Ed intanto proseguono senza sosta le indagini da parte dei carabinieri per far piena luce sull'episodio. La lite, da quanto ricostruito dai militari dell'arma, sarebbe nata per una ragazza contesa. Un appuntamento per chiarirsi dove l'aggressore, un 18enne di origine albanesi, si sarebbe difeso da un attacco da parte di un connazionale di 25 anni colpendolo all'addome, poi sarebbe scappato per disfarsi dell'arma. Al regolamento dei conti erano presenti anche due amici del 18enne, già identificati e denunciati per percosse e minacce. L'accoltellatore invece è stato denunciato per lesioni gravissime e porto abusivo d'arma bianca. La procura però non ha ritenuto opportuno prendere nei suoi confronti un provvedimento cautelare, non ci sarebbe infatti pericolo di fuga. A soccorrere il 25enne invece i sanitari del pronto soccorso di Sansepolcro, dove gli altri giovani presenti lo avevano lasciato per poi far perdere le proprie tracce.